Eccoci, pronti per cominciare una nuova settimana, questa è la numero 5, cominciamo! Get ready for your warm-up! How are we feeling? Go! 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 You still are half way through, there's way more to go here! You still are half way through, there's way more to go! Go! Okay, shake it, shake it, quick, feet off the ground, like a little hot potato, bounce off the balls of the feet, come on, I'll work out with you, okay go, 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 come on, give it a go, give it a go, give it a go, give it a go! Oh, look how pretty that is, isn't that beautiful? Let's go! This is a workout that is designed to hit every fitness modality, so do not feel bad if you are struggling. How are we feeling? How are we feeling? How are we feeling? Sì eccoci buongiorno siamo arrivati al giorno 6 della nostra quinta settimana oggi ci tocca ma io oggi ho già fatto un sacco di piccini dite che basta devo proprio farlo questo workout oh look how pretty that is isn't that beautiful per me è super complicato la sto mettendo tutta ma non riesco a fare manco la metà di quello che fanno queste stanzi per me è per me è let's show him why go pure high knees